Sono stati presentati al Caffè Letterario Le Murate di Firenze i sei candidati per le prossime elezioni europee della lista Europa Verde. Ospiti d'onore Ska Keller, co-candidata dei Verdi alla presidenza della Commissione Europea, e Margarcia Sanz, segretaria generale degli European Greens. Il nostro messaggio è un messaggio universale, è un messaggio che abbraccia gli interessi di tutti, la salute di tutti, l'ambiente e il pianeta di tutti. Opporsi ai cambiamenti climatici con un'iniziativa politica forte significa credere nella riconversione dell'economia in forma sostenibile. E questo significa dare lavoro, creare futuro, dare occupazione ai nostri giovani. Quindi un mondo migliore che possa preservare le risorse per le prossime generazioni e smetta di pensare solo alle prossime elezioni.